Buongiorno a tutti gentili delle spettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. Buona giornata ad Andrea Vignolini, è venerdì 29 marzo 2024 e siamo pronti per aprire la nostra puntata di Refresh odierna con le prime pagine di oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera con la notizia principale che riguarda Ilaria Salis, negati i domiciliari, l'italiana ancora in aula in catene, lo vedete ovviamente nella foto in prima sul Corriere di oggi. Parla il ministro degli Esteri Tajani che dice che il giudice sbaglia ma no allo scontro politico. Il padre prova di forza di Orban e il Tribunale di Milano rimette in libertà l'altro indagato. Il padre Ilaria Salis ieri sera a Piazza Pulita ha annunciato che contatterà il presidente della Repubblica Mattarella. Sempre sulla prima pagina del quotidiano del Corriere della Sera c'è l'intervista al guardasigilli Nordio che dice i test attitudinali per i magistrati servono, si verrà giudicati da figure idonee. Così il ministro della giustizia Nordio intervistato da Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera di oggi. Restiamo sempre sulla prima pagina di oggi del Corriere della Sera con le parole della presidente dell'Europarlamento Mezzola che dice noi gli europei così in cinque anni siamo cambiati l'articolo di Paolo Giordano e poi le parole di Mezzola l'Unione Europea ha bisogno di nuove regole. A centro pagina la minaccia di Putin pronti a colpire gli F-16 dall'Ucraina soldi ai terroristi dell'Isis e poi avvisa la Nato. Putin avverte la Nato, gli F-16 a Kiev se li usano li colpiremo anche nelle nostre basi. Se verranno utilizzati da aeroporti di paesi terzi, ha precisato lo Tsar, per noi saranno un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino. Poi ha bollato come totale assurdità l'intenzione di attaccare la Nato ma insiste soldi ucraini ai terroristi dell'Isis. La retorica e le minacce spiega il Corriere sulla prima pagina del giorno. Scuola, Valditara e le classi, gli alunni italiani siano più della metà. Così il ministro dell'istruzione mentre ovviamente Salvini ha riaperto la polemica sul Ramadan chiusa da Mattarella e aveva parlato di un tetto del 20% di stranieri in aula. Sempre sulla prima del quotidiano Il Corriere della Sera con la vicenda che riguarda Flavio Binatore operato al cuore un tumore benigno, il messaggio dell'imprenditore che dichiara sto bene. Andiamo anche sulla prima del quotidiano La Repubblica mentre sfogliamo tutta la rassegna stampa che più tardi leggeremo con le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana e commenteremo insieme ai nostri ospiti. La Repubblica, la prima pagina, Salis resta in cella, Meloni la abbandona al castigo di Orban. Giuliano Foschini racconta ovviamente la giornata di ieri a Budapest. Ilaria Salis la vedete all'udienza che le ha negato gli arresti domiciliari sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Poi Putin minaccia la Nato, la guerra in Ucraina, il presidente russo colpiremo i caccia F-16 di Kiev negli aeroporti dei paesi terzi da cui decolleranno. E per la strage di ISIS a Mosca il Cremlino torna ad accusare Zelensky, ha finanziato i terroristi. Gli Stati Uniti parlano di follia. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Tusk, il premier polacco, Donald Tusk, dice la guerra è alle porte. Donald Tusk dice l'Europa è come alla vigilia del secondo conflitto mondiale, dobbiamo prepararci. Bisogna spendere il più possibile per armarci. I prossimi due anni sono decisivi, dice Donald Tusk oggi sul quotidiano La Repubblica, così il premier polacco. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Super bonus, salvi i cantieri dei terremoti. Questa è una notizia importante che riguarda un correttivo sul tema del super bonus. E poi parla anche Giulia Buongiorno, ex ministro della giustizia. Spiega, i test per le toghe sono utili a evitare danni. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, con Bonaccini, Dash Line, le liste per Bruxelles sono un caso. E dunque il partito democratico, diciamo così, discute sulle liste per quanto riguarda le elezioni europee. Sempre sulla prima del quotidiano La Repubblica, il calcio Tonali non è finita. Scommetteva anche sulla premier, spiega il quotidiano La Repubblica, facendo riferimento appunto alla vicenda che vede Sandro Tonali coinvolto nello scandalo scommesso. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione, con le notizie di oggi. Gli 007 soldi russi ai parlamentari europei. Il dossier dei servizi segreti ciechi e polacchi. Mazzette ai politici, anche francesi e tedeschi, per condizionare scelte e strategie. Putin minaccia, colpiremo ovunque siano i gette della Nato destinati all'Ucraina. Tajani sugli F-16, il Cremlino fa propaganda, così il ministro degli esteri. Poi a certo pagina, guardatemi, è il titolo del quotidiano La Nazione, la sfida di L'Aria Salis in aula, mostrate le mie manette, il tribunale ungherese le nega gli arresti domiciliari. E poi sempre sulla prima del quotidiano La Nazione, con la notizia che riguarda questo fatto di cronaca accaduto a Perugia, a 14 anni salva un anziano dal fuoco. Sempre sulla prima del quotidiano La Nazione, con le altre notizie che riguardano la mappa del dissesto, così proteggeremo il nostro territorio, parla Gaia Checucci, guida dell'autorità irdica. E poi il progetto del Museo del Novecento a Firenze, che apre una nuova casa per gli artisti. I richiami in prima che riguardano la città. A Firenze, a Pontassieve, un operaio di 36 anni muore schiacciato dalla gru. E poi, sempre questa notizia che arriva da Firenze, colleziona 175 multe, gli sequestrano SUV da 50.000 euro, perché ovviamente non aveva pagato le 175 contravvenzioni. Andiamo avanti con i titoli del giorno, lo facciamo con l'edizione di Firenze e Empoli del quotidiano Il Tirreno. La diagnosi si fa in farmacia, più servizi vicino a casa. In Toscana, dalle analisi alle prenotazioni, dalla telemedicina ai vaccini over 12. Accanto alla Croce Verde, che ci siamo abituati a vedere all'esterno delle farmacie, compareremo la scritta farmacia dei servizi. Un'insegna che racconterà che dietro all'ingresso non si acquisteranno solo farmaci, ma saranno garantiti tutta una serie di servizi, dalla telemedicina a tutti i vaccini per gli ultradodicenni, fino a un numero più elevato di analisi. A prevederlo è il DDL Semplificazioni, che ora dovrebbe essere recepito dalla Regione Toscana. E poi, sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, la notizia che riguarda l'ASL Nord-Ovest, il numero unico in tilt, ore di attesa al telefono. Se è il numero 87 in attesa di parlare con un operatore dall'altro capo del telefono, la voce registrata, fa capire che l'attesa sarà lunga ed estenuante, che prenotare una visita specialistica in libera professione, quindi a pagamento, sarà tutt'altro che facile. Questo accade nell'ASL Nord-Ovest della Toscana. Sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, rischio attentati, rafforzata la vigilanza, a Toscana controlli a ridosso degli obiettivi sensibili per l'arrivo in massa dei turisti. E poi la notizia che leggevamo prima sul quotidiano Una Nazione, resta schiacciato dalla ruspa, muore un operaio di 36 anni, accade a Pontassieve, è la terza tragedia sul lavoro in pochi giorni. Sempre sulla prima del quotidiano Il Tirreno, con le notizie che arrivano dalla città, le vecchie dimore rinascono grazie al turismo, accade in Sangallo a Firenze, e poi al via i lavori alla Basilica di San Mignato, e poi le notizie anche che arrivano da Empoli sono in aumento, gli sfratti per morosità, spiega Il Tirreno. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, l'edizione è quella di Livorno, le notizie che arrivano dalla città. Addio Baroncini, medico di famiglia, aveva 72 anni, questa è la notizia che leggiamo in primo piano per quanto riguarda Livorno sul Tirreno, e poi per le grandi navi c'è l'ipotesi del taglio della Vegliaia. Restiamo anche invece con le notizie che riguardano anche Campo nell'Elba, siamo all'Isola d'Elba, la cronaca, droga nascosta dell'abitazione, arrestato un 45enne. Adesso la rassegna stampa sportiva con i titoli dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere allo Sport Stadio. Gio, tutti per te, domani Fiorentina Milan, emozioni e brividi per il direttore generale, la viola e i suoi tifosi con barone nel cuore. In quattro giorni il Franchi ospiterà 65.000 persone, prima la sfida che vale l'Europa contro Pioli, poi mercoledì la semifinale di andata con l'Atalanta. Belotti la semifinale di andata di Coppa Italia, Belotti guiderà l'attacco, in due mesi deve convincere Commisso a riscattarlo dalla Roma, e quindi l'obiettivo ovviamente è proprio il riscatto per Andrea Belotti. Zhang è all'angolo, è il titolo del quotidiano del Corriere dello Sport Stadio, la proprietà cinese al Bivio, la svolta può arrivare entro il 20 maggio, il prestito di Ocatrice cade tra 53 giorni, due soluzioni, trovare un nuovo investitore o rilevare il controllo del club. E poi la semifinale a Miami, tra Sinner e La Gloria, c'è ancora Medved questa sera alle 20, semifinale per il tennista azzurro. Andiamo anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, con le notizie del giorno. Milan, grande d'Europa, l'amministratore delegato Furlani in gazzetta, investimenti per vincere, dobbiamo solo perfezionarci, Leao resterà con noi, Ibra sa parlare alla squadra, l'inchiesta o zero timori, spiega l'amministratore delegato in questa intervista al quotidiano la Gazzetta dello Sport. Poi sempre sulla prima pagina, Ermoso il dopo a Cerbi, il mercato nerazzurro, il difensore in bilico e l'Inter ha un'idea. E poi la notizia che riguarda la Juve, Chiesa vuole arrestare le sfide con la Lazio per tenersi la Juve, domani in A, martedì in Coppa, questo spiega il quotidiano, la Gazzetta dello Sport. E poi vedete la notizia che riguarda Sandro Tonali, ex Milan ora al Newcastle, Tonali 50 puntate anche in Premier e sul Newcastle, questo è accaduto prima della squalifica. Nel taglio alto poi la notizia che riguarda Sinner, Sinner amore d'Italia, e il titolo tennis a Miami alle 20, semifinale con Mettevedere, Alcaraz fuori, coach Cahill spiega, sente l'affetto della gente, è rimasto umile, dunque nuova semifinale per Yannick Sinner a Miami. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con tutte le notizie del giorno, restate con noi con Refresh su Toscana TV e Firenze TV. Buongiorno a tutti i gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata da Andrea Vignolini, è venerdì 29 marzo 2024, abbiamo letto insieme le prime pagine di oggi con le notizie principali del giorno, sfogliamo adesso i quotidiani insieme con in primo piano a pagina 2 del quotidiano il Corriere della Sera, la vicenda di Ilaria Salis. Salis no ai domiciliari, in aula ancora al guinzaglio, e vedete proprio le foto delle catene e dei ceppi alle caviglie e ai polsi di Ilaria Salis, all'arrivo in aula nel Tribunale di Budapest, a sinistra il lucchetto che chiude il ceppo alle caviglie della donna, a destra l'insegnante sorride prima dell'inizio dell'udienza, questo spiega il quotidiano il Corriere della Sera. Per Budapest, ovviamente 13 mesi di carcerazione preventiva, non sono esagerati, spiega il giudice ungherese, mentre il padre annuncia che si rivolgerà al Quirinale. Vedete poi nella grafica lo scritto firmato da Ilaria Salis, con cui l'insegnante italiana ieri mattina ha autorizzato la stampa italiana a pubblicare le foto che la ritraggono in manette nell'aula del Tribunale. Sempre sulla prima pagina del quotidiano, nelle pagine interne del quotidiano il Corriere della Sera, con Ilaria Salis, è in prigione dal febbraio del 2023 a Budapest con l'accusa di lesioni aggravate a tre neonazisti. I fatti risalgono alla vigilia del giorno dell'onore in cui i neonazisti celebrano il tentativo della Verkermatt di rompere l'assedio a Budapest. La donna, che si dichiara innocente, rischia fino a 24 anni di carcere. A gennaio fece il giro del mondo la sua foto mentre entrava in aula ammanettata, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio. Nella nuova udienza di ieri i giudici hanno rigettato la richiesta degli avvocati del trasferimento dal carcere ai domiciliari e ancora una volta Ilaria Salis è entrata in aula con manette e polsi alle caviglie e un guinzaglio alla vita spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. All'interno ovviamente del quotidiano Il Corriere della Sera si spiega proprio delle parole del padre Roberto Salis che fuori dall'aula si sfoga. È l'ennesima prova di forza del governo Orbán e il governo italiano non ha fatto una bella figura ora dovrebbe farsi un esame di coscienza e il riferimento è al ministro della giustizia Carlo Nordio ci aveva accusato addirittura di perdere tempo con richieste a suo dire inutili ma ora che abbiamo seguito la strada da lui indicata chiedendo domiciliare in Ungheria non è cambiato nulla qualcuno è bene che chieda scusa oppure prenda provvedimenti normalmente le persone d'onore se lo sono hanno reazioni d'onore dal ministro degli esteri ungheresi arriva una dichiarazione per assolvere l'esecutivo di Butapest eppure quello di Roma siamo uno stato di diritto e il governo non interferisce in nessun modo nelle competenze della magistratura ma Roberto Salis insiste riferendosi al problema delle catene ancora imposte a sua figlia quelle non dipendono dal giudice bensì dal sistema carcerario e quindi dall'esecutivo il governo italiano può e deve fare qualcosa perché mia figlia non sia trattata come un cane a questo punto mi rivolgerò al Quirinale sempre all'interno del quotidiano il Corriere della Sera Ilaria dai sorrisi alla sfida mostrate le foto in manette poi il verdetto e la delusione nella capitale ungherese era pronto un appartamento per ospitarla nel caso degli arresti domiciliari così non è stato ora dovrà restare in cella almeno altri due mesi la foga del PM in aula dichiara sono pronta a collaborare con le autorità ungheresi sulla custodia cautelare e poi all'interno del quotidiano il Corriere della Sera c'era ovviamente presente a Budapest zero calcare e le minacce dei neonazisti dicevano vi spacchiamo la testa il fumettista è in trasferta con gli amici dell'insegnante italiana perché dice il fumettista sta raccontando da tempo la vicenda processuale di Salis e degli altri antifascisti accusati dall'Ungheria in una serie di fumetti editi da Internazionale il primo in fondo al pozzo ha contribuito ad accendere i riflettori sul caso portando all'attenzione del grande pubblico le condizioni di detenzione degradanti a cui è stata sottoposta la 39enne di Monza dal giorno del suo arresto condizioni peraltro già più volte denunciate dal padre di lei Roberto Salis nella penultima delle sue pillole di aggiornamento settimanale e fumetti sul processo edita il 21 marzo Zero Calcare aveva annunciato il 28 marzo sarà una giornata molto importante sempre poi ovviamente sempre questo per quanto riguarda l'iniziativa editoriale ma racconta Zero Calcare l'ingresso del tribunale era presidiato dai neonazisti filmavano e fotografavano tutti quelli che arrivavano con telefonini e telecamere al punto che all'inizio io pensavo fossero guardie poi ho visto i vari simboli nazisti dal gruppo di estremisti a un certo punto è partita anche una minaccia riconosciuta come tale dall'interprete della famiglia Salis qualcuno si è stranito per la situazione e gli è stato detto che gli avrebbero spaccato la testa riferisce il fumettista quindi capite ovviamente anche la diciamo la questione in che termini è stata posta opposizioni ira contro Budapest Tajani politicizzare non aiuta il disappunto del ministro degli esteri per la scelta del tribunale Schlein parla di uno schiaffo e vedete i parlamentari Scalfarotto Boldrini Fratoianni e gli altri anche Laria Cucchi ieri a Budapest con uno degli avvocati di Laria Salis proprio ovviamente mentre si confrontavano su quello che sarebbe accaduto il disappunto del ministro degli esteri per la scelta del tribunale Schlein parla di uno schiaffo in Ungheria un gruppo di parlamentari italiani Boldrini Zampa Cucchi Fratoianni e Scalfarotto e poi la storia invece che riguarda Gabriele Marchesi 23 anni ieri in tribunale per l'udienza sulla richiesta di estradizione posso uscire non sarà estradato il giovane indagato con Ilaria i giudici no a trattamenti degradanti dopo 129 giorni trascorsi a casa Marchesi torna libero perché sono stati revocati i domiciliari e poi le dichiarazioni ovviamente che riguardano la vicenda Salis Matteo Renzi Meloni dica Orban che l'Ungheria deve rispettare le regole sullo stato di diritto Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia non assolvo l'area Salis ma aspetta a noi cercare di difendere i nostri concittadini Eli Schlein il governo reagisca è uno schiaffo ricevibile ai diritti di una persona detenuta Antonio Teiani il giudice non ha voluto concedere gli arresti domiciliari secondo me sbagliando sempre all'interno dei quotidiani di oggi su questa vicenda partiamo anche dal quotidiano La Nazione che riporta un'intervista all'onorevole Scalfarotto Italia Viva uno dei deputati presenti ieri dice è uno sfregio all'Europa Ilaria è stata umiliata il senatore era in tribunale e parla di un verdetto inatteso sempre all'interno dei quotidiani di oggi il quotidiano La Repubblica con questa notizia per Salis ancora carcere e catene lo schiaffo di Orban all'Italia la docente milanese di nuovo in aula al guinzaglio con i ceppi i giudici 13 mesi in cella non sono tanti è pericolosa minacce dei nazisti all'ingresso del tribunale zero calcare pensavo fossero guardie poi ho capito i loro simboli come abbiamo letto sul quotidiano il Corriere della Sera sulla Repubblica c'è proprio l'intervista al padre di Ilaria Roberto Salis ingegnere Roberto Salis il padre ora chiederò aiuto a Mattarella dai ministri solo bugie sulla candidatura alle europee perché ieri appunto abbiamo letto proprio su Repubblica dell'idea di Ellis Line con il suo team di collaboratori più stretti di candidare Ilaria Salis alle europee candidarla alle europee adesso siamo concentrati su altri temi spiega il padre e poi c'è l'articolo di Giuliano Foschini che invece racconta il retroscena del governo sulla vicenda di Ilaria Salis la grande resa del governo un altro anno in cella poi si punta all'espulsione dai ricorsi anche alla Corte Europea allo spettro della condanna cosa succederà adesso spiega Repubblica in quest'articolo di Giuliano Foschini torniamo sulle pagine interne del quotidiano Corriere della Sera con ovviamente le altre notizie da leggere insieme sul Corriere e ci si occupa in questo caso proprio delle elezioni europee a cui faceva riferimento il padre di Ilaria Salis sull'eventuale candidatura di sua figlia ha detto il padre adesso pensiamo ad altre cose però continua la trattativa tra Schlein e Bonaccini ma nasce un caso sull'idea Tarquinio le critiche del governatore probabile capolista nuovo fronte sull'ex direttore di avvenire e dunque si tratta ovviamente sulle liste del Partito Democratico europeo nel PD sono in corso le trattative la direzione del partito prenderà una decisione tra il 15 e il 19 aprile la disputa sui capilista il presidente Stefano Bonaccini non ha preso bene l'ipotesi di non essere capolista piuttosto rinuncia gli hanno detto i suoi altri nomi su cui sono nate discussioni sono quelli di Paola Picerno vice di Bonaccini alle primarie e Sandro Ruotolo e Marco Tarquinio ex direttore dell'avvenire dunque questa la questione per quanto riguarda appunto la diciamo il Corriere della Sera sulle candidature alle europee e poi nella lista più Europa è sconto tra Bonino e Pizzarotti ex sindaco 5 Stelle di Parma ora presidente del partito di cui Bonino è padre nobile ha infatti aperto il fuoco contro l'operazione della fusione diciamo con Italia Viva cioè della presentazione a fusione della presentazione insieme a Italia Viva per quanto riguarda le liste e poi sempre all'interno del quotidiano Corriere della Sera sulle liste del partito democratico parla Simone Almalpezzi che dice così vengono penalizzate le donne e gli uscenti se elle decide di correre lo faccia da capolista i candidati devono rispecchiare la linea del partito democratico io ritengo che il presidente del partito debba guidare la lista siano valorizzate le competenze sempre all'interno del quotidiano del Corriere della Sera ieri abbiamo letto tanti articoli che riguardano ovviamente la grande stretta sul super bonus non sarà così nei comuni sismici come leggiamo sul Corriere della Sera super bonus il governo si corregge niente stretta nei comuni del sisma dal 110% allo sconto in fattura i benefici tagliati resteranno invariati nella zona rossa e quindi questo è un tema molto importante per quanto riguarda ovviamente quei comuni che hanno a che fare con la ricostruzione dopo il sisma sempre all'interno del quotidiano il Corriere della Sera con il giovedì santo il Papa che lava i piedi a 12 detenute il rito a Re Bibbia per la prima volta nella sezione femminile del carcere la commozione e le lacrime delle recluse Papa Francesco ieri nel penitenziario di Re Bibbia per il rito della lavanda dei piedi lo vedete nella foto del quotidiano del Corriere della Sera e poi la scuola italiana con il ministro Valditara e gli alunni la maggioranza nelle classi sia italiana il ministro sull'integrazione il PD parla di un post sgrammaticato i dirigenti scolastici il capo del sindacato dei presidi è un discorso abbastanza condivisibile andiamo avanti sempre con i titoli del giorno sul quotidiano della Repubblica e ritorniamo anche al tema che abbiamo letto su Corriere della Sera delle liste nel Partito Democratico Schlein vede Bonaccini si tratta sui capilista Tarquinio agita idem e ora la leader a dubbi incredibile come l'ex direttore di Avvenire diciamo così sia in questo momento uno dei personaggi più contesi per la candidatura nel Partito Democratico il giornalista finisce nel fuoco incrociato dei riformisti e sinistra soprattutto per la sua posizione per quanto riguarda Kiev che è contraria alla linea del partito Tarquinio infatti è diciamo dal ex direttore di Avvenire ovviamente sostiene la linea della pace del non intervento militare Cuffaro e Mastella dividono più Europa ma Bonino tira dritto e parla di problemi di Renzi facendo riferimento alle candidature diciamo così di eventuali di Totò Cuffaro e Clemente Mastella che vorrebbero si vorrebbero candidare per l'Unione Europea nella lista Stati Uniti in Europa rispettivamente che vorrebbero candidare il genere e la moglie nella lista Stati Uniti in Europa la Bonino dice questi sono problemi di Renzi sempre all'interno del quotidiano della Repubblica questa notizia fa sicuramente riflettere e fa capire come l'Italia secondo quello che scrive Paolo Mastrolilli sia al centro dei riflettori internazionali l'allarme del tesoro americano l'Italia crocevia del fiume di droga che finanzia Assad l'Italia è diventata un crocevia del traffico di droghe sintetiche dalla Siria verso l'Europa l'allarme viene dal Dipartimento al Tesoro degli Stati Uniti che cita l'Italia nel rapporto con cui annuncia di aver imposto sanzioni contro produttori e spacciatori di Capoc Dagan usato anche dai terroristi di Hamas il 7 ottobre la denuncia si aggiunge a quella fatta da Repubblica dall'ex capo dell'FBI che in occasione dell'arresto di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio aveva segnalato che il nostro paese è sfruttato come importatore centro per importante centro per il commercio del fentanyl che è questo farmaco piace o che lo ricordiamo viene definita una nuova droga sintetica bollette elettriche in calo del 19,8% per chi è sotto tutela la notizia riguardo ovviamente in particolare gli utenti consumatori i clienti già passati al mercato libero pagheranno in media invece 135 euro in più spiega il quotidiano la Repubblica in edicolo oggi andiamo anche all'interno del quotidiano la nazione con tutte le notizie del giorno e c'è questa notizia che riguarda le ombre russe sulle europee soldi ai parlamentari europei così Mosca pilota il voto la rete scoperta dagli 007 un'operazione dei servizi polacchi e ciechi l'obiettivo era minare l'immagine dell'unione diversi politici convinti a collaborare con Voice of Europe network finanziato dal Cremlino ombre russe dunque sul voto per l'Europarlamento prima era un sospetto ora sta tramutandosi in realtà a rivelarlo è un'operazione congiunta dei servizi ciechi e polacchi in collaborazione con quelli tedeschi e di altri paesi che ha portato alla scoperta di una rete gestita dalla Russia il network aveva convinto alcuni parlamentari europei a collaborare con il sito filorusso Voice of Europe che ha sede a Praga e soprattutto essere ricettivi dagli input politici di Mosca il tutto in cambio di ricchi finanziamenti si parla di centinaia di migliaia di euro per le elezioni europee di quest'anno le mazzette sarebbero state pagate in contanti nella Repubblica cieca e in criptovalute i pagamenti russi hanno riguardato politici di Belgio Francia Germania Ungheria Olanda e Polonia in Germania in particolare ci si interroga su chi possano essere i politici tedeschi che avrebbero ricevuto il denaro sempre all'interno del quotidiano della nazione verso la festa la festa è quella di Pasqua le nostre tradizioni il volo del Cristo risorso e la processione del Cristo risorto e la processione scalzi non disperdiamole tornano i riti religiosi e gli appuntamenti storici in Toscana e Umbria Davide Rampello però avverte spesso ad apprezzarle di più sono i turisti il rischio è smarrire tutto il valore simbolico importante per le comunità sempre all'interno del quotidiano il Corriere della Sera scusate la nazione con il voto in Toscana l'intervista di Luigi Caroppo a Marco Furfaro che smentisce ovviamente la sua candidatura in regione toscana e dice le scelte del PD vinciamo con due donne a Firenze e Prato basi comuni con i 5 stelle Marco Furfaro braccio destro della segretaria della segretaria Elislein traccia le strategie per le prossime comunali dell'8 e del 9 giugno poi rilancia la Multutility e lo sviluppo compatibile del Vespucci andiamo all'interno del quotidiano La Nazione proprio su questa intervista dice a Prato si dice che il PD prima di iniziare a fare la campagna elettorale deve rimettere a posto i cocci e ritrovare davvero unità di intenti è così sabato scorso abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione di bugetti un momento riservato agli giornalisti si è trasformato in un momento di popolo con 200 persone entusiaste so bene quanto distragga la bolla politicista e mediatica ma a Prato c'è un partito forte giovane e unito mentre la destra è già in difficoltà e poi Firenze tutti o quasi contro il PD vi siete chiesti come mai? non direi abbiamo una coalizione ampia e Funaro ha sempre dato la disponibilità ad aprirsi ad altre forze ho imparato da tempo che i partiti sono importanti le persone che stanno fuori ancora di più e proveremo insieme a Sara a costruire una nuova pagina per Firenze assieme a loro e poi sempre all'interno del quotidiano la nazione campo largo nelle due città possibili accordi con il Movimento 5 Stelle su quali basi dall'altra parte non c'è una destra liberale ma un misto di odio cattivaria e sovranismo ipocrita c'è un accanimento seriale verso i più fragili dal taglio dei fondi alle persone con disabilità al definanziamento dei fondi affitti fino alle briciole per gli anziani non autosufficienti e si continua a perseguire un modello di paese basato su sfruttamento e per carità abbiamo toccato il record di poveri anche in tema di minori già questo basterebbe per mettere insieme e fare fronte chi pensa di cavarsela da solo non capisce che è roba da privilegiati da privilegiati che non capiscono che fuori dai palazzi la gente non può permettersi di visione e distinguo le basi sono città in cui il benessere e non più la competitività sia al primo posto attraverso la creazione di lavoro di qualità accesso ai servizi cura della persona e dell'ambiente poi due temi tabù nella campagna elettorale la multiutility e la nuova pista del Vespu ci spiega la multiutility è fondamentale dice Furfaro per lo sviluppo della Toscana l'aggregazione dei servizi garantisce una maggiore efficienza per i cittadini discuteremo del sistema di finanziamento della società il Partito Democratico ha stoppato la fuga in avanti sulla quotazione in borsa come unico strumento possibile senza preconcetti e ideologia arriveremo alla scelta migliore nell'interesse delle Toscane e dei Toscani il superetto del segretario Emiliano Fossi ha sempre promosso l'impegno per trovare una sintesi tra le protezioni di Prato e parte della Piana con quella di Firenze la strada da seguire è questa dice Furfaro e poi sempre all'interno del quotidiano Nazione parla Gaia Checucci segretario dell'autorità di Bacino dell'Appennino settentrionale il territorio fragile così il nuovo piano d'assetto idrosiologico ci protegge dalle frane Gaia Checucci segretario dell'autorità di Bacino spiega all'ok al PAI regole univoche per affrontare meglio l'emergenza e gestire i rischi sempre all'interno del quotidiano La Nazione con le notizie che arrivano da Firenze schiacciato dalla gru muore a 36 anni la vittima è un operaio del Pakistan che stava lavorando alle sieci nel comune di Pontassieme nel piazzale di una ditta la corsa all'ospedale di Careggi ma i soccorsi non sono serviti si è spento nella serata di ieri a centropagina percorso a ostacoli dura la vita da pedone abbiamo fatto una prova sul campo con una over 70 camminare sui marciapiedi una gincana fra auto bici carrelli e altri pericoli e poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione di Firenze il caso Ciatti verso l'ultimo atto sentenza vicina continuate a cercare il killer di mio figlio spiega il padre nella sua battaglia per la giustizia e poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione la città e la politica il day affair di Der Re il 13 aprile saprete con chi ci alleiamo e poi verso il ponte festivo Pasqua sold out in agriturismo ma in città pesa l'incognita meteo nel taglio basso guerra contro il sito la Fiorentina vince la causa sul nome è una causa contro il sito web fiorentina.it la società di commisso nel 2020 aveva citato il portale per contraffazione e il tribunale delle imprese gli ha dato ragione andiamo all'interno del quotidiano La Nazione con i titoli che riguardano l'ostacoli inciviltà e la voglia di regole la vita dei pedoni è tutta in salita auto selvagge bici sui marciapiedi e semafori impossibili quando camminare diventa un'avventura il nostro test a fianco di un residente over 70 ecco le trappole che peggiorano la qualità della vita anche la civiltà passa dai controlli scrive Gabriele Canè nell'articolo editoriale di oggi e poi la tramvia nuovi bus e Rioni uniamo le piccole città che vivono dentro Firenze così miglioreremo la vita parla Biagi Gianni Biagi ex assessore all'urbanistica e presidente di Urbit che indica la strada così la società senza intermediari ha peggiorato la società civile la politica riprende in mano l'urbanistica e pensi a lungo termine dice l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma sia innestata sul nuovo sistema che viaggia sul tram sempre all'interno del quotidiano La Nazione con l'intervista all'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti nuovo codice della strada poche luci tante ombre d'accordo sul mettere la targa ai monopattini dice Giorgetti che commenta le misure della Camera e annuncia dopo che ci sarà l'approvazione definitiva controlli e una campagna stampa su zone 30 e autovelox dice non cambiamo idea sempre all'interno ovviamente del quotidiano La Nazione in questo in questa intervista all'assessore Giorgetti l'IDL prevede anche la limitazione dei sistemi di misurazione della velocità nelle aree ZTN non abbiamo controlli con autovelox nel centro storico quindi la cosa non ci riguarda dice Giorgetti una battaglia intrapresa da questa amministrazione già qualche anno fa sui monopattini finalmente viene fatta propria dal governo sì questo ci fa piacere per noi era necessario munire monopattini di casco assicurazione targa e a suo tempo abbiamo anche messo delle ordinanze soprattutto per il casco ma il tar le ha sempre respinte per quanto riguarda gli aspetti della competenza e vi ricorderete appunto proprio queste sentenze rispinte dal tribunale amministrativo regionale che però andavano nel senso che recepisce oggi il nuovo codice della strada andiamo ancora all'interno del quotidiano Nazione con questa notizia il furbetto delle multe colleziona 175 verbali ma non li pagava SUV confiscato dai vigili il protagonista è un sessantenne fermato durante un controllo l'auto pignorata al termine dell'iter per il mancato versamento di oltre 30 mila euro relativo alle sanzioni accumulate in dieci anni da anni non si curava di pagare le decine di infrazioni che gli venivano regolarmente notificate dal comune di Firenze alla fine il conto è stato molto salato con tanto di sequestro del SUV foglio rosa dopo foglio rosa il conducente disattento e spregiudicato era arrivato a ben 175 verbali che non aveva mai pagato dal divieto di sosta all'eccesso di velocità ma anche il transito nelle corsie preferenziali sempre all'interno del quotidiano la nazione il day after di Del Re cancellata da Nardella il mio piano tradito è tempo di alleanze l'ex assessora leader di Firenze democratica parla senza filtri del PD e del sindaco la maggioranza ha ingannato i fiorentini la nostra posizione costruttiva e non distruttiva Dario pensa solo al suo futuro dunque dure le parole anche dal punto di vista politico e delle accuse politiche di Sicilia Del Re nei confronti di Dario Nardella dice si è sentita isolata gli domanda Antonio Passanese nell'intervista di oggi su Repubblica io rappresentavo un intrancio ai piani futuri del sindaco un problema e quindi la cosa più semplice è stata cancellarmi alla faccia del rispetto anche per la persona dopo anni di lavoro insieme noi chiedevamo discontinuità come avevo invocato un anno fa presentando il POC ma il PD non ha saputo interpretarla tanto che le modifiche hanno confermato la volontà di non voler cambiare niente spiega al quotidiano la nazione Cecilia Del Re intanto siamo a pagina 8 con le sfide del Ponte Estivo sempre sulla nazione di Firenze pranzi da tutto esaurito sul fronte dei pernottamenti ancora posti liberi si punta al last minute l'incognita meteo pesa anche sugli alberghi camere occupate al 75% sempre all'interno del quotidiano la nazione con la notizia che riguarda il cardinale Giuseppe Bettori arcivescovo di Firenze Bettori l'applauso finale era l'ultima messa crismale sacerdoti e fedeli hanno reso omaggio all'arcivescovo di Firenze i vescovi passano il signore resta ed è lui l'unico vero nostro pastore il cardinale Bettori ha ringraziato i sacerdoti per come animano le comunità con il loro ministero come se li volesse salutare uno a uno spiega il quotidiano la nazione nell'articolo di Pier Francesco Onesti sempre all'interno del quotidiano la nazione con la notizia che riguarda la cronaca muore a 36 anni a Pontassieve operaio schiacciato dalla gru il lavoro ha ucciso un'altra volta un lavoratore originario del Pakistan è morto a Careggi per i gravissimi traumi riportati ieri mattina il mezzo che stava manovrando si è adagiato su un fianco e lui è rimasto sotto i colleghi lo hanno rianimato sempre all'interno del quotidiano la nazione con la Fiorentina che vince la guerra del marchio il club Viola vince contro il sito fiorentina.it il tribunale delle imprese di Milano dà ragione alla società di commisso che nel 2020 aveva citato il portale di informazione per contraffazione realizzati in malafede anche gadget e merchandising secondo i legali della squadra il dominio assomiglia ha un canale ufficiale senza esserlo sempre all'interno del quotidiano la nazione con invece la cronaca nera l'omicidio Niccolò ciatti siamo vicini all'ultimo atto la Cassazione ora confermi il 16 aprile la condanna a 23 anni per il ceco per il ceceno scusate Bissultano potrà diventare definitiva l'appello del babbo Luigi all'Italia e alla Spagna continuate a cercare il latitante sempre all'interno del quotidiano la nazione andiamo a Bagnarripoli nella città metropolitana dove è il giorno della rievocazione storica il venerdì santo grande attesa e novità in vista migliaia di visitatori previsti per assistere alla rappresentazione delle scene della Passione di Gesù ci sarà la raffigurazione della fagellazione in piazza Umberto I che anticipa il processo di Ponzio Pilato come ogni venerdì santo andrà in scena la rievocazione storica della Passione di Cristo è la 41esima edizione andiamo avanti sempre con i titoli del giorno all'interno dei quotidiani locali siamo sulla prima pagina del quotidiano della Repubblica di Firenze vedete il successo del tour che partirà per la prima volta dall'Italia per la prima volta da Firenze è nei numeri 300.000 in strada per il tour 1800 ordinanze sulla sosta stiamo parlando del prossimo 27, 28 e 29 giugno un evento che genererà un indotto immediato di 20 milioni e occuperà la città per una settimana a giugno questo spiega la Repubblica sulla prima pagina poi la polemica l'assessore Bezzini la destra legata ai Novax non vuole il centro anti-pandemie a Siena a centro pagina invece dal carro ai musei aperti la Pasqua in Toscana spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze e dunque Pasqua con chi vuoi ma con un occhio alla tradizione a Firenze e nel resto della Toscana tornano gli eventi tipici del periodo pasquale su tutti lo scoppio del carro sempre all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze dalla via Crucis al Brindellone tutti gli eventi dei giorni di festa da oggi a lunedì in programma celebrazioni religiose fieri e musei aperti si comincia da stasera a Grassina e poi anche al mare dove sarà aperto un bagno su quattro molti sono appesi a capricci meteo dalla Versilia all'Argentario stabilimenti pronti a schierare gli ombrelloni tempo permettendo poi sempre all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze Pasqua e fine Ramadan alzato il livello di allerta contro gli attentati il sindaco spiega il ministero ha messo Firenze tra le città attenzionate dopo la strage a Mosca e poi vedete la notizia che leggevamo in prima pagina il ciclone tour vie chiuse e transenne 300 mila in arrivo il quartier generale alle cascine è una complessa macchina organizzativa che per Palazzo Vecchio significa ad esempio 1800 ordinanze e poi sempre nella pagina interna del quotidiano della Repubblica Betori saluta un dono stare con voi il cardinale arcivescovo di Firenze Betori vicino all'addio restiamo sempre all'interno del quotidiano Repubblica di Firenze con due notizie la prima la denuncia dell'assessore al diritto alla salute della regione toscana Bezzini che spiega la destra legata ai Novax non vuole il centro antipandemie l'assessore regionale attacca dopo il taglio del governo sui fondi per il biotecnopolo di Siena la replica di Fratelli d'Italia il ministro Schillaci ha assicurato che sarà fatta e proprio sul biotecnopolo di Siena e il taglio dei fondi ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 2 dove Gianni commenta appunto che questa è decisamente una brutta notizia le parole del governatore le vediamo assieme ma a me dispiace vedere che un'iniziativa di grande speranza che aveva portato più di 300 milioni di finanziamento sul biotecnopolo ovvero sul sistema farmaceutico in sinergia pubblico privato che poteva animare la ricerca e quindi essere protagonista nel piano antipandemico che lo Stato deve elaborare perché l'abbiamo visto col Covid lo Stato deve essere pronto nel momento in cui si crea una situazione di pandemia e lì il know-how che vi assiena la sinergia per essere pronti a produrre subito i vaccini adeguati nel caso si riproponessero una situazione di questo genere aveva attivato il biotecnopolo il fatto di vedere rallentare anzi frenare con il taglio dei finanziamenti non è certo una bella notizia per la Toscana ma nemmeno per l'Italia io spero che il governo segua una strada di diametrale atteggiamento diverso da quello che abbiamo riscontrato e andiamo avanti sempre con le notizie di oggi all'interno del quotidiano Repubblica di Firenze crowfunding per la cupola della chiesa nel borgo delle Camelia e Lucchesia rischia di collassare raccolti in pochi giorni 600 euro ma ne servono più di 100.000 per i lavori di consolidamento dello storico edificio a Sant'Andrea di Ecompito piccolo centro nel comune di Capannori dopo le verifiche l'allarme per un cedimento avvenuto nel sottotetto spiega la Repubblica di Firenze e poi vedete la notizia che riguarda il titolare di alcune pizzerie che si ribellò a lockdown aprendo i locali e lanciando il movimento io apro Momi e laui e Momi appunto è stato assolto definitivamente perché aprì il ristorante durante il lockdown per lui arriva la soluzione definitiva della Cassazione e dunque il caso è chiuso come spiega la Repubblica di Firenze ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco con Refresh con tutte le notizie di oggi su Toscana TV e Firenze TV restate con noi Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPD presenza di vento forte nella zona sud-occidentale della nostra regione raccomandata alla massima prudenza in A12 chiusa fino a domani 29 marzo alle 20 l'entrata a Rosignano Marittimo in direzione Genova a Firenze alvia la nuova fase dei lavori in Viale Matteotti per quanto riguarda i cantieri della tranvia in programma anche lavori notturni in Piazza della Libertà fino a venerdì 26 aprile lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa e Pisa-Roma possibili variazioni e cancellazioni Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze altre info sui nostri canali social buon viaggio Buongiorno a tutti gentili delle spettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh buona giornata ad Andrea Vignolini è venerdì 29 marzo 2024 stiamo leggendo insieme le notizie principali che arrivano da Firenze e dalla Toscana con i quotidiani locali andiamo sulla prima pagina del Corriere Fiorentino l'apertura governo Meloni vicino a Inovax l'accusa dell'assessore regionale Bezzini vogliono smontare il progetto Biotecnopolo tra tagli e rinvii dopo oltre 18 mesi sul centro senese non si è mosso nulla Palù ex dell'AIFA l'Agenzia Italiana del Farmaco è un danno per il paese a centro pagina poi la fotonotizia Bettori saluta Firenze grande dono atteso a giorni il nuovo arcivesco vedete il cardinale Giuseppe Vettori durante la messa per il giovedì santo sempre sulla prima pagina del quotidiano il Corriere Fiorentino aprì contro il lockdown assolto in Cassazione il ristoratore Momi ve lo ricorderete io apro era finito sotto processo ora la Cassazione ha confermato la soluzione con formula piena poi fronte della sicurezza controlli antiterrorismo Pasqua blindata a Firenze e poi l'incidente alle sieci si ribalta con l'escavatore gravissimo l'operaio nel taglio basso la notizia che invece riguarda la normale di Pisa che dice no al bando con Israele sapete delle proteste che ci sono in questo momento in tutta Italia nelle università italiane da Roma fino a Torino passando ovviamente per Bari arriva anche questa notizia della normale con il documento del Senato accademico basta con le collaborazioni con l'industria bellica andiamo all'interno del quotidiano il Corriere Ferrentino che sulla vicenda del biotecnopolo fermo abbiamo ascoltato prima che ci fermassimo le parole del governatore della Toscana Eugenio Gianni intervista il professor Palù Giorgio Palù che ha diretto l'agenzia del farmaco e spiega manca pure lo statuto se il centro non parte ci rimettiamo in salute e in competitività perché il professor Palù è stato chiamato nel comitato scientifico ci rimettiamo soldi ma anche in termini intellettuali scientifici perché questa realtà attirano ricercatori giovani che altrimenti finiscono all'estero spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino sempre all'interno del Corriere Fiorentino questa notizia che riguarda la normale di Pisa no al bando di ricerca in collaborazione con Israele il Senato accademico approva un documento contro i progetti con aziende di armi a novembre la normale di Pisa aveva aderito a un progetto di ricerca congiunto dei governi italiano-israeliano due giorni fa il Senato accademico su proposta degli studenti ha fatto un passo indietro rispetto a quella decisione togliendo la pubblicità dal bando del proprio sito e invitando il governo italiano a ripersarlo congiuntamente ha espresso la volontà di non aderire a progetti di ricerca legati all'industria delle armi sempre all'interno del quotidiano il Corriere Fiorentino con diciamo questa vicenda che riguarda nascono le residenze del murale delle polemiche al Museo 900 cinque stanze dopo il caso Nemos Nardella aiutiamo gli artisti dopo lo scontro per la raffigurazione di Firenze città mercificata quattro artisti e un curatore prendono casa negli spazi del Museo 900 e dunque c'è anche questa particolarità delle residenze per artisti saluto in collegamento con noi l'arro parlamentare del Partito Democratico Beatrice Covassi buongiorno e benvenuta Covassi buongiorno a tutti allora partirei intanto dalle dichiarazioni oggi del premier polacco Tusk a Repubblica la guerra in Europa è un pericolo leale ma l'Unione Europea non è pronta si fa riferimento ovviamente al missile russo che ha sorvolato per 39 secondi lo spazio aereo polacco e a quello ovviamente alle minacce che il Cremlino sta facendo sugli F-16 in Ucraina c'è una situazione molto particolare ma stando a questo al momento siamo allo sconto verbale che sicuramente incute timore certo sarebbe una scelta scelerata quella di Putin di avviare un conflitto che potrebbe innescare la terza guerra mondiale ma di sicuro Putin sta facendo una scelta muscolare una prova di forza sta testando l'Unione Europea sta testando anche la volontà dell'Unione Europea di andare avanti nel campo della difesa e devo dire che per il momento la via è stretta quella che stiamo cercando di trovare perché continuiamo a ribadire ovviamente il nostro appoggio all'Ucraina stiamo cercando di sviluppare la difesa europea quindi sviluppare per la prima volta e ricordiamolo a chi ci ascolta quella difesa europea che anche De Gasperi sognava negli anni 50 che poi fu affossata dalla Francia e non tornò più diciamo all'orizzonte dell'Unione Europea fino adesso fino a questi fatti recenti quindi stiamo cercando di crearla chiaramente ci vuole tempo per avere una capacità di difesa indipendente dalla Nato ma al tempo stesso la collaborazione con la Nato resterà sul tavolo quindi c'è uno scenario nuovo quello che vorrei sottolineare che a me come parlamentare europea dà veramente fastidio a Bruxelles negli ultimi discorsi che sento anche da alcuni colleghi e in particolare colleghi più delle destre è un po' questo sentimento di ineluttabilità della guerra ecco io credo che su questo dovremmo stare tutti molto attenti e dire invece no continuiamo chiaramente a mettere all'opera le nostre diplomazie continuiamo a lavorare sotto tono anche dietro le quinte perché non ci può essere soltanto la guerra come possibile opzione mai in nessun modo l'Unione Europea è nata per la pace e chiaramente questo è il suo obiettivo principale dentro e fuori dall'Unione senta oggi ci sono tante notizie che riguardano l'Europa e gli europarlamentari c'è anche questa notizia allarmante sul quotidiano una nazione nella parte nazionale eccola qua ombre russe sulle europee soldi a parlamentari europei così Mosca pilota il voto la rete scoperta dagli 007 operazione dei servizi polacchi e ciechi l'obiettivo era minare l'immagine dell'Unione Europea diversi politici convinti a collaborare con Voice of Europe che è un sito filorusso che ha sede a Praga e soprattutto diciamo così si invitava questi europarlamentari a essere ricettivi agli input politici di Mosca il tutto in cambio di ricchi finanziamenti si parla di centinaia di migliaia di euro e in particolare i pagamenti che sono stati fatti in contanti nella Repubblica Ceca o in criptovalute hanno riguardato politici di Belgio Francia Germania Ungheria Olanda e Polonia è una vicenda sulla quale credo debba essere fatta la necessaria carezza onorevole chiaramente è una vicenda che non sorprenderà dopo le vicende del Qatargate è una vicenda che ci dice qualcosa ci dice che l'Europa è diventata finalmente sexy lo posso dire così nel senso di attrattività vuol dire è certo l'Europa è importante e ci siamo resi conto di quanto è diventata in questi ultimi anni importante quanto il suo ruolo geopolitico stia crescendo quanto i suoi poteri stiano crescendo poteri che prima non aveva l'Europa si considerava l'Europa quando si pensava sempre a qualcosa di tecnico o un organismo un po' burocratico lontano adesso l'Europa ha una capacità sia di mercato 500 milioni di abitanti che geopolitica molto importante allora cosa succede quando tu diventi importante chiaramente diventi l'oggetto della contesa diventi l'oggetto di attacchi esterni non sorprende quindi che ci stiano a provare sempre chi vuole renderci più fragili quello che sorprende semmai è l'ingenuità o la diciamo proprio a volte la poca serietà di alcuni colleghi perché noi dopo il Qatargate abbiamo comunque rafforzato le regole per quanto riguarda tutte le collaborazioni con i paesi terzi tutte le collaborazioni con le lobby e via dicendo chiaramente bisogna vegliare su queste cose poi se qualcuno vuole comportarsi male non c'è nulla da fare però mi sembra importante sottolineare un dato su questo articolo cioè sull'influenza russa che è un dato che riguarda non tanto l'attacco diretto diciamo prendere di mira alcuni parlamentari specifici ma è un dato su quello che si chiama la guerra ibrida o comunque le fake news le infiltrazioni con i mezzi di stampa infatti si citava il sito Voice of Europe con i social con tutte queste piattaforme con gli hackeraggi con gli hackeraggi dei siti perché sono stati più volte attacchi informatici anche a siti italiani lo abbiamo letto insomma non è una assolutamente con gli hackeraggi ma anche con i troll ricordiamoci i fiumi di troll cioè di questi account anonimi che poi vanno a spargere notizie e vanno a contrastare o prendere di mira determinati politici o determinati siti istituzionali quindi dobbiamo stare davvero molto attenti e anche vorrei dire a chi ci ascolta a me questo anche fa riflettere che queste sono le prime lezioni europee le prime che noi viviamo nell'era dell'intelligenza artificiale che vuol dire vuol dire l'intelligenza artificiale c'è la possibilità di quelli che si chiamano deep fake cioè le falsità irriconoscibili dal vero mettono il mio volto la mia voce mi fanno dire cose diciamo con questi programmi che io non ho mai detto ed è molto difficile una volta che sono uscito contrastarle su questo occorrono interventi legislativi multe, sanzioni occorre di tutto di più sta roba è intollerace beh bisogna stare attenti perché è una grande novità abbiamo visto le foto di Trump faccio un esempio abbiamo tutti visto le foto di Trump con tutte le persone di colore per spingere il voto afroamericano ecco dobbiamo dire agli elettori alle elettrici che ci ascoltano diffidate sempre da quello che trovate in rete cercate di andare alla fonte se potete se avete dei dubbi verificate anche appunto con Toscana TV con dei giornalisti seri dunque andiamo invece alle questioni che riguardano la formazione delle liste per l'europea siamo su Repubblica Schlein vede Bonacini si tratta sui capilista Tarquinio agita i dem e ora la leader a dubbi il governatore alla fine potrebbe guidare la lista del nord est il giornalista il ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio finisce nel fuoco incrociato di formisti e sinistra proprio per le sue posizioni per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino ma il punto principale poi viene spiegato all'interno del quotidiano il Corriere della Sera lo spiega Simona Malpezzi in un'intervista proprio al Corriere in Edicola oggi dove dice così vengono penalizzate le donne uscenti per la formazione delle liste se elli decide di correre lo faccia da capolista perché elli Schlein vorrebbe prendere il terzo posto della lista e non il primo è d'accordo con questa affermazione della Malpezzi Covassi ma la dico la verità questo punto di mettersi in terza posizione lascia perplessa anche me perché alla fine se sei la leader del partito e fai la scelta di scendere in campo stai per forza come capolista insomma non ha molto senso mettersi in un'altra posizione anche perché tutti votano il capolista è impensabile che ci siano persone uomini che non fanno i ticket col capolista o con la segretaria quindi meglio la segretaria capolista se decide di scendere in campo così diciamo di sicuro sarà un traino e al tempo stesso non si blocca la lista perché le donne uscenti chiaramente in questo modo andrebbero a finire in quarta quinta settima posizione non lo so c'è l'alternanza sulle liste quindi bisogna mettere una donna un uomo una donna un uomo e si possono esprimere fino a tre preferenze ricordiamola chi ci ascolta sono tre preferenze che devono essere però alternate quindi non possono essere tutti uomini o tutte donne anche se ne esprimi due deve essere un uomo una donna quindi come capite e poi le accoppiate sono limitate il numero di preferenze che uno può fare se si mettono un nome forte della società civile come capolista e poi la segretaria del partito per le altre donne rimane poco da giocare non è così facile questo è vero questo è un elemento che va considerato in una stagione in cui le donne penso alle amministrative sono grandi protagonisti onorevole cioè Scandicci Firenze Calenzano Barberino e Mugello anche nella città metropolitana di Firenze ci sono Prato Prato ci sono tantissime candidate se consideriamo infatti io sono molto contenta guardi sulle amministrative di vedere che sta tantissime candidature di donne valide brave in gamba io penso che sia una stagione per riequilibrare finalmente il rapporto anche in politica tra uomini e donne ma semplicemente non per fare una questione di bollini o di quote ma perché le donne portano un approccio complementare spesso e diverso alla gestione del potere quindi fa bene a tutti avere più più volti avere più protagonisti diversi in cui anche le ragazze si possono rispecchiare per esempio avere dei modelli a cui guardare io credo che questo sia molto positivo per le europee io mi permetto di sottolineare questo è un punto importante che chiaramente in Europa non si va a fare la passerella l'abbiamo visto abbiamo parlato di guerra abbiamo parlato di un momento drammatico della storia del nostro continente e questo passa anche da una grande capacità anche tecnica diciamo competenza chiamatela come volete esperienza politica per sapere andare a negoziare su quei tavoli lì bisogna fare in modo qualunque sia la decisione della segretaria di mandare in Europa una squadra che riesce a negoziare bene e che riesce a portare il risultato a casa questa mi sembra la cosa più importante sinceramente guarda ha perfettamente ragione perché questo diciamo così qualche volta avendo fatto come giornalisti delle visite agli aeroparlamentari e avendo seguito anche le sedute delle commissioni o dell'aeroparlamento ci si rende conto delle questioni che vengono affrontate della complessità delle questioni che anche diciamo per chi magari tutti i giorni legge i giornali si appassiona sono difficilissime quindi occorre una preparazione veramente incredibile e poi soprattutto non è facile fare l'aeroparlamentare questo diciamo chi poi lo conosce l'istituzione protagonista lo capisce bene come? sì è un lavoro bello tosto confermo che richiede molta energia fisica e molta capacità di entrare nei dossier senta veniamo a una donna una giovane donna Ilaria Salis che è ancora in carcere in catene come spiega oggi Repubblica in Ungheria allora la questione qua è molto semplice Budapest dice che 13 mesi di carcerazione preventiva perché di quello stiamo parlando diciamo così non sono poi tanti non sono stati concessi i domiciliari che era la strada ovviamente che aveva chiesto il ministro Nordio alla famiglia Salis cioè di chiedere ovviamente i domiciliari non sono stati concessi ora al di là della via giudiziaria sulla quale diciamo così il punto principale lo decide diciamo è materia sovrana dell'Ungheria però il punto vero sono le condizioni di detenzione di Ilaria Salis questa immagine che vediamo dei ceppi alle caviglie tenute al guinzaglio delle manette strette ai polsi fanno riflettere sullo stato di detenzione di una cittadina italiana all'estero forse su questo si può ancora fare qualcosa allora guardi io ho incontrato i genitori di Ilaria Salis a Bruxelles un paio di settimane fa anzi a Strasburgo eravamo nella plenaria ultima e mi ha molto colpito la loro storia insomma tutta questa sofferenza stanno passando tutti e due ho aiutato il padre di Ilaria Salis in quell'occasione a avere un breve incontro con la presidente Mezzola mi sono spesa anche per metterlo in contatto con il mio collega ungherese che fra l'altro porta un nome simile al mio perché si chiama Kovac quindi è probabilmente un lontano lontanissimo chissà apparente qualche secolo addietro perché così facciamo squadra diciamo per per aiutare in qualche modo la famiglia Salis a uscire da questa situazione io credo che a prescindere dal punto da come ha detto lei dal contenuto giudiziario sia impensabile inconcepibile nel 2024 vedere scene vergognose come quelle che abbiamo visto una giovane donna tratta in catene al guinzaglio con misure palesemente non necessarie e umilianti e sia ancora più inconcepibile vederlo in uno Stato che formalmente è membro dell'Unione Europea perché il problema grosso è che è inutile che noi andiamo a dire ai cittadini europei siamo tutti cittadini della stessa Europa italiani ungheresi polacchi francesi se poi si vedono queste scene allora credo sia anche importante nella prossima legislatura fare una riflessione chiaramente questa materia penale non è materia armonizzata dall'Unione Europea è una materia nazionale però sulle condizioni dei detenuti secondo me una riflessione ulteriore è doverosa e soprattutto ribadire che uno Stato di diritto uno Stato che rispetta i valori della carta fondamentale dell'Unione Europea i principi fondamentali di rispetto della persona umana non può trattare i prigionieri così né dell'Unione Europea né fuori ma soprattutto i cittadini dell'Unione Europea è inconcepibile su questo però mi scusi faccio una nota un po' polemica insomma la Meloni che è tanto amica di Orban dovrebbe veramente veramente darsi diciamo una mossa e convincere il leader ungherese a non ripetere queste scene di umiliazione grazie a Beatrice Covassi ero parlamentare del Partito Democratico che è stata con noi questa mattina c'erano tante notizie da commentare le abbiamo commentate tutte insieme grazie buona giornata buon lavoro grazie a voi buona giornata andiamo avanti con le notizie di oggi lo facciamo con il quotidiano il Tirreno eravamo rimasti sul Corriere Fiorentino eccoci qua nella parte ovviamente regionale del quotidiano il Tirreno il terrorismo islamico fa paura c'è il rischio di nuovi attacchi l'attentato di Mosca previsto nel report dell'esperto toscano Andrea Manciulli obiettivi sensibili ovunque ma stiamo facendo un grande lavoro di prevenzione e vedete proprio gli investigatori cercano i simpatizzanti in rete prima che vengano reclutati diventano essi stessi terroristi Andrea Manciulli della fondazione Medor in alto i controlli dopo l'attentato a Mosca e la copertina del report di Medor il nemico silente sempre all'interno del quotidiano il Tirreno verso la Pasqua città d'arte prese d'assalto gli americani ci hanno scelto e poi siamo a Livorno con per fare entrare le grandi navi si pensa di tagliare la vegliaia il segretario dell'autority abbiamo chiesto uno studio sempre a Livorno il nuovo Mediceo vedete i rendering e le foto via lavori per il porto turistico 15 milioni di euro e 815 posti barca parla Paolo Vitelli fondatore di Azimut Benetti Group che spiega Vitelli e questi 20 anni è l'ultimo dei menzioni burocrazia pesante ma voglio festeggiare non criticare siamo a Cecina qui ci sarà la casa di comunità via lavori per quasi 5 milioni si riqualifica l'immobile di via Savonarola per servizi H24 nell'area cecinesi a Piombino spruzzano lo spray urticante sull'autobus carico di studenti autori del gesto sarebbero ragazzini che frequentano le medie a Follonica dal maxicantiere in zona Senzuno spunta fuori un muro ottocentesco la scoperta durante i lavori di riqualificazione interessata alla sovrintendenza all'Elba la casa come centro di spaccio arrestato un 45enne di campo nell'Elba nella sua abitazione trovati quasi un chilo e mezzo tra ascisce e cocaina poi sempre all'interno del quotidiano del Tirreno siamo a Firenze una cittadella del turismo nell'ex ospedale Sangallo demoliti i primi edifici proseguono gli interventi di trasformazione nella vecchia struttura militare anche spazi e aree aperte alla cittadinanza e poi uno dei simboli di Firenze San Minato al Monte via lavori antisismici oltre 3 milioni e mezzo per mettere in sicurezza la basilica e il campanile il cantiere prevede pure il restauro della facciata sempre all'interno del quotidiano il Tirreno numeri e formule squadra sestese approdata ai mondiali di fisica la formazione del polo scientifico di Sesto Fiorentino alle finali di Dublino siamo a Empoli in aumento del 20% gli sfratti per morosità o finita locazione Andrea Donato più della metà del reddito se ne va per la casa sempre all'interno del quotidiano il Tirreno siamo a Grosseto passaporti le nuove modalità più appuntamenti e più rapidi sempre sulle prime pagine di oggi la Nazione di Arezzo vi ricorderete ieri la notizia che abbiamo letto dell'assalto all'arbitro c'è la stangata due anni di squalifica ai principali responsabili un totale di 42 giornate a 5 calciatori e maxi multe andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano la Nazione di Pistoia Montecatini SOS furti nei vivai vedete nella fotonotizia l'operazione dei carabinieri presi 3 malviventi le piantine portate all'estero per poi rivenderle a centro pagina del quotidiano la Nazione di Prato passaporti più veloci la questura aperta all'agenda prioritaria per snellire la procedura certificando l'urgenza l'iter si chiude in pochi giorni e poi sempre all'interno del quotidiano la Nazione ma con ovviamente la vicenda che riguarda Via Reggio e la Versilia il lacrime per spillo Andrea Mazza stroncato a 55 anni da una malattia degenerativa carnevalaro appassionato aveva costruito carri in miniatura ma era anche DJ mascherista e grandissimo tifoso di calcio e hockey chiudiamo con il titolo del quotidiano la Nazione di Firenze per il QS sold out cuore e gloria siamo Firenze questo è il titolo ovviamente per quanto riguarda il sold out di Fiorentina Milan che si gioca domani sera al Franchi di Firenze termina qua questo appuntamento di refresh noi vi auguriamo felice Pasqua buona Pasquetta e torniamo direttamente martedì 2 aprile puntuali come sempre alle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'augurio di una buona giornata buone feste e lì